Lo fura stiere, dorme stanotte sull'aria A San Mauroforte rievocata una pagina di storia poco nota fuori dai confini locali accaduta nel 1940. Una rivolta dei braccianti e piccoli proprietari contro cartelle sattoriali sbagliate si concluse nel sangue. Sentiamo Beatrice Volpe. Ai piedi della Torre Normanna va in scena la rievocazione della rivolta del 1940. Siamo a San Mauroforte. Quattro attori, un gruppo di musicisti, niente scenografie o effetti speciali. Solo il pathos di una vicenda che 76 anni fa ha segnato in modo drammatico questa comunità. La ribellione dopo l'arrivo di 500 avvisi di pagamento per le terre si radunarono in 800. Questo lavoro qui a San Mauroforte mira a raccontare la prima rivolta antifascista popolare di tutta Italia. Nel 1940, 30 e 31 marzo, il popolo di San Mauroforte insorge contro il Podestà perché erano arrivate bollette agrarie, cioè chi teneva terreni in affitto, era proprietario, era costretto a pagare bollette molto esose, salate. Ed erano bollette sbagliate. Si confusero gli ettari con le aree, si arrivò a tutti i nuclei familiari, a padre, figlio. Le cartelle furono strappate davanti al Podestà. Si tagliarono i fili del telefono e telegrafo per evitare l'arrivo dei carabinieri che invece giunsero in forze da Stigliano e Matera. Dovevano sparare in aria, ma ci fu un morto. Cinque feriti, tra cui due donne. Uno morì in ospedale dopo qualche giorno. Nella notte partirono i rastrellamenti rievocati da una delle protagoniste dell'epoca, oggi 96enne. Il carabinieri si informarono dal paleto, chi era mio marito, chi era mio padre, mio cognato, e vennerne e arrestarono. In carcere finirono in 130, 13 mesi nelle celle dell'ex ospedale di San Rocco a Matera, dove dieci anni dopo finì anche Rocco Scotellaro, il sindaco poeta di Tricarico accusato ingiustamente. Antonia Miccio, vi partorì. Avevo 32 anni ed ero incinta di un mese preciso di Pasquale. Lo volevamo maschio e ci promettevo con mio marito che lo chiamavamo Pasquale se era maschio. La madre fu ferita durante la rivoluzione a San Mauro, fu arrestata e mi sono fatto 13 mesi di carcere. Mia madre è stata malata fino alla morte, è morta il 51, quindi la storia non me l'ha potuta raccontare lei. Io l'ho sentito raccontato da gente che quando mi incontrava diceva questo è nato nel carcere. Nel processo celebrato nel 1948 i 130 arrestati furono tutti amnistiati. Il caso ebbe enorme risonanza e addirittura Radio Mosca, all'epoca sotto Stalin, parlò di San Mauro come del paese dei rivoluzionari. La Pies, finanziata con fondi regionali, è stata voluta dal Comune per non disperdere la memoria di una comunità che in anni di dittatura osò ribellarsi per difendere pane e dignità.